La partita difficile La squadra sta bene perché anche a Milano abbiamo visto che abbiamo fatto una grande partita e ripeto questa squadra è forte, lo sta dimostrando partita dopo partita, possiamo giocarcela con chiunque quindi dobbiamo continuare così per andare a prenderci i nostri obiettivi. Noi sappiamo che siamo forti, l'abbiamo dimostrato in tutte queste partite, forse ne abbiamo sbagliato una ma siamo sempre andati in campo con le nostre qualità mettendo in mostra le nostre qualità, la squadra c'è, è un gran bel gruppo, abbiamo conoscenze calcistiche quindi noi fino alla fine ci proveremo. Grazie Grazie